Un abbraccio ricco di significati. Non è passata inosservata l'esultanza della squadra brinisina al gol di Ancora contro il Bitonto. Una rete certamente importante che portava il Brinis in vantaggio contro la capolista in trasferta, dopo un'ennesima settimana complicata, che però ha dato il segnale di compattezza, perlomeno da parte dei calciatori della Rosa Bianca Azzurra. Non un gesto scontato, che però ha dato un segnale di una volontà chiara e precisa, quella di fare gruppo e di isolarsi da tutto ciò che è strano al calcio giocato, per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Per farlo servirà il Brindisi visto in campo a Bitonto, ma servirà anche e proprio quello spirito di squadra e di unione vista al momento dell'esultanza. Un corpo unico tra giocatori e staff, confermato dalla ricerca di Ancora dopo l'esultanza, con un segnale di riconoscimento al tecnico biancazzurro Salvatore Ciullo. Un gesto importante che lancia un messaggio a tutto l'ambiente per le prossime partite, ad iniziare dal match interno contro il Sorrento. Tutto questo però deve essere un punto di partenza per affrontare le ultime otto sfide, per raggiungere il risultato della permanenza del campionato di Serie D, che il Brindisi dopo quattro anni ha ritrovato con fatica e sacrificio. E quindi ora serve che quell'abbraccio visto in campo si estenda anche ai tifosi e dalla città, verso l'unico treguardo della salvezza. Grazie.